pronto o la ciaval che passa che passò a tu ciao vuoi sapere un posto al solo che è successo e mi chiama pekis e che cosa vuoi che si è successo è stata una puntata interlocutoria non che si parla dell'inter interlocutoria c'è con il successimento trattativa in corso ornella sta facendo una lagna sta facendo e raffaello mi ha fatto i corno e raffaello che proprio mi è nascito il corno raffaello facciare questi corno una volta per tutti così si mette l'anima in pace ti spara perché questo sono i milanesi che loro passano su tutto ma un cristiano si è convidato cucaraldà come si chiama mamma e samuel samu samuel un cocco un cocco si quando la bistica e raffaello di qua e raffaello di là e non ti ho perdonato e non ti ho perdonato iiii madonna mia tu carmine pare che stava benenne e rocca bernalda sta cristiana un'altra dottoressa melanesi e che madonna mi fa i corno e vabbè fino a quando è un mascolo che mi fa i corno nella firma che problema c'è che sto l'avevo a dire vabbè comunque ormai l'ha detto si si no c'è tutto bene si appiccia pure a due bui dici che sono arrivato i temporali ah non sono arrivato e com'è e mi dà una posta se è arrivato un nuovo temporale vuoi ritiro e si tu vai a una posta ci sei dovrebbe arrivare sto aspettando un temporale ma potete consegnarmelo a ottenere la ricevuta e poi sai cosa che puoi fare aspetta ah niente devo fare niente aspetta aspetta se sono un posteri e ti consegno un temporale e se no e se no questa rosola è così ma su che tu non c'è l'ip che ti hai da dire ah 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 e se passi un bacio a me che non c'è come com'è questa storia di Ornella e Raffaele che sono lì che si stanno ammazzando come i francesi cosa brutta del mondo vabbè molte saluti che pure come si chiama? perché sono andata non sono andata ahhh la moglie del buo la una volta un grasse una volta un grasse una volta un grasse poi loro, mariella, poi loro... vabbè uno per tutti che lo rossossano in altri tra anche la nasica, un grasse da qui si può guardare forse è pure un po' che steossa ma ma tu sei frega di un posto al sole che un posto al sole d'estate dovrebbero pure vietarlo che i capri ne avevamo già abbastanza pure un posto al sole ne avevamo ah siete accorti vabbè almeno una volta ciao state buoni, saluto a tutti noi sentimmo aspetta che ciao 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 e insomma sei astuta sei astuta sei astuta sei astuta ora la piccia questi telefonini che fanno pure da telecomande per i ventilatori sono fantastici va bene, ciao ciao